Passiamo allora all'ultimo intervento di oggi, quello di Simona Negruzzo, dal titolo allievo santo, Marco Antonio Riccio, precettore di Alessandro Luzzago, che tratterà appunto di una vicenda di ambiente bresciano in epoca controriformista e proprio nella sede di Brescia, dell'Università Cattolica, Simona Negruzzo insegna storia moderna, è anche docente di storia della Chiesa presso la Facoltà Teologica di Lugano, collabora con molte istituzioni scientifiche italiane e straniere, in particolare in Francia, in Francia è stata anche invitata, quella che sarebbe visiting professor nel lessico inglese, a Clermont-Ferrand e poi anche alla Sorbona e proprio a una zona contesa della Francia, a lungo contesa, all'Alsazia, ha dedicato una sua monografia pubblicata dal Mulino nel 2005, L'armonia contesa, identità ed educazione nell'Alsazia moderna. Il suo intervento di questa sera si intitola appunto, come detto prima, L'allievo santo, Marco Antonio Roccio, precettore di Alessandro Luzzago. Grazie, avevo preparato un PowerPoint, ma forse magari può aprirmi la pagina, un momento di suspense, ma è solo, comunque è solo illustrativo, quindi posso già intervenire direttamente. No, è già sullo schermo, però non riesco a togliere lo... Ah, questo è il screensaver. Lo screensaver. Eccolo lì, Roccio Luzzago. Roccio Luzzago. Aspetta, facciamo questo? Sì. Sì, grazie. Allora, eccoci, ci siamo. L'itinerario del sapere che vi propongo di intraprendere insieme ci porta ora alla chiusura di questo pomeriggio così interessante ad una ventina di chilometri da Brescia, nel paese di Gavardo, un comune collinare all'imbocco della Valle Sabbia, quasi in parallelo con il lago di Garda. I Roccio, famiglia di antica ascendenza nobiliare e originaria della Mantovana Asola, si erano stanziati ampliando i loro possedimenti terrieri in alcuni comuni della bassa Bresciana, come Remedello, risalendo poi in seguito verso Salò e Gavardo. Marco Antonio Roccio aveva 50 anni quando Carlo Borromeo, nel 1580, visitava la parrocchia di Santa Maria di Gavarno e lo segnalava come cappellano mercenario, cioè incaricato a tempo. Nella relazione non vi è alcun cenno sulla sua attività precettorale e si tace sull'esistenza di un convitto per giovani nobili. In realtà, solo vent'anni prima, fra le mure della sua residenza di famiglia, Don Roccio accoglieva un ristrettissimo numero di fanciulli per insegnar loro i rudimenti dell'arte retorica e avviarli allo studio della lettere in vista di un loro perfezionamento in istituzioni superiori consolidate o direttamente all'Università di Padova, Parma, Bologna e Pavia. Di questa sua occupazione non sono rimaste che rare tracce documentarie, fra cui la menzione nelle visite pastorali di Domenico Bollani negli anni Sessanta del XVI secolo. Ma una di queste è straordinaria per il suo significato polivalente. Infatti si tratta proprio delle memorie dello stesso Roccio, tese a illustrare la vita e l'attitudine di un suo discepolo, Alessandro Luzzago, eredate in vista della beatificazione però di quest'ultimo. Prendendo spunto allora da questa fonte inedita, negli interventori percorrerò a grandi linee la vita di Luzzago, tratterò poi dell'iter tortuoso per riconoscerne canonicamente la santità e infine il legame e gli anni vissuti col precettore Roccio che più ci interessa da vicino. Di nobili natali. E quanto si può affermare di Alessandro Luzzago, nato a Brescia da Girolamo e Paola Peschiera è battezzato nella parrocchia di Santa Maria Calchera l'8 novembre del 51, 1551. La nascita del tanto atteso figlio maschio allietò la contrastante figura del nobile Girolamo, desideroso di affidare a un erede il compito di manifestare degnamente il proprio casato. In realtà Alessandro dovette rappresentare solo ed esclusivamente un titolo nobiliare ormai privo di sostanza. Il patrimonio familiare, infatti, era drasticamente diminuito a seguito della cattiva amministrazione del padre di Girolamo, creando per il futuro le premesse di un obbligato ridimensionamento delle mire elitarie. Allo stato di indigenza, volutamente celato al pubblico per evitare l'iscrizione della famiglia nelle liste dei poveri vergognosi, si contrapponeva una profonda ricchezza spirituale. Girolamo, pur dal carattere difficile, era annoverato fra gli esponenti di spicco della nobiltà bresciana, cattoliche praticante, edificato dall'esempio della madre Ginevra, già collaboratrice di Angela Merici e della moglie Paola, sostenitrice anch'essa dell'opera mericiana. L'ambiente familiare contribuì certamente a plasmare nel giovane Alessandro, fin dalla tenera età, la convinta adesione alla fede cattolica, sostenuta prima dalla vicinanza di un precettore sacerdote, a cui però fu inviato, e poi nutrita dalla spiritualità oratoriana e gesuitica, e temprata poi dalla frequentazione del collegio di Brera, a Milano, e dell'Università di Padova. Alessandro Luzzago fu uno dei protagonisti della prima stagione controriformistica bresciana. Le sue vicende personali si intrecciarono con quelle del vescovo, Domenico Bollani, con Angela Merici, con Carlo Borromeo, però mantenendo sempre un'accentuata, diciamo, una marcata accentuazione del suo carattere locale. L'attività caritativa assistenziale e la nascita di nuove congregazioni religiose costituirono gli assi portanti di questi decenni, la via bresciana, per realizzare quella riforma tanto auspicata all'interno della Chiesa e della società. Esaminando una larga messe di studi fioriti intorno alla traduzione bresciana dei principi tridentini e più in generale intorno al fenomeno della riproposizione del modello del pastore-riformatore di matrice borromaica, l'esempio offerto da Luzzago è molto calzante. Anche l'immagine che ne emerge dall'epistolario giovanile è su questa lunghezza d'onda, cioè quella di un giovane protagonista che dedicandosi alle cure della famiglia, allo studio, all'edificazione personale e a quella del prossimo, si prepara ad agire nella brixia fidelis dei suoi insigni predecessori ed eminenti contemporanei e ad illustrarla con il proprio esempio. Il patrizio bresciano ereditò lo spirito e le opere del fecondissimo contesto, intervenendo a perfezionare, a patrocinare, a sollecitare, là dove gli entusiasmi si erano prima raffreddati, a creare anche personalmente ex novo. Luzzago divenne membro del Consiglio Cittadino, si adoperò per consolidare l'insediamento e l'attività educativa della Compagnia di Gesù, svolse un'ampia azione in campo caritativo e sociale, fu il fondatore di un ricovero per mendicanti, della Casa delle Zitelle, promotore dei Monti di Pietà, membro della Confraternita della Misericordia per i giustiziati a morte, protettore delle dimesse di Sant'Orsola, eccetera, eccetera. Si dedicò poi all'attività della dottrina cristiana, di cui avete visto accanto ai suoi ritratti alcuni esempi, di cui divenne gran priore, facendosi poi anche autore di testi e di immagini di natura catechetico-devozionale, predisposti secondo un chiaro disegno pastorale. Forse Luzzago, tutto proteso al dono di senti, ma mente pervaso, certamente di afflato mistico, era il prototipo del laico cattolico, zelante, creativo, ma sempre ubbidiente e ortodosso. E nel corso della sua vita non andò tanto fiero delle opere compiute, quanto piuttosto della conversione del padre. Eh sì, il padre, che insomma, tornò alla fede cattolica e fece un gesto così importante come quello di andare con il figlio a Milano per far visita alla tomba di Carlo Borromeo. Ma proprio in quel momento la parabola del figlio, la parabola terrena, stava per spegnersi verso gli altari. Una parte che ci riguarda proprio, che ci porti invece alla morte di Luzzago. Perché la morte proprio lo colse mentre accompagnava il padre a Milano il 7 maggio del 1602. Morì nella casa professa dei Gesuiti a San Fedele assistito dal nipote di Carlo Borromeo, Federico Borromeo. Ai suoi funerali, celebrati in forma solenne, sia a Milano che a Brescia, partecipò a una folla immensa e a testimonianza di quanto Luzzago fosse molto conosciuto, stimato e amato a Brescia e da molti personaggi di rilievo della riforma cattolica. Alla sua città lasciava in eredità svariate iniziative caritative e il ricordo di una presenza operosa e produttiva negli organismi pubblici. Quanti, tra poveri ed emarginati, erano stati da lui in forma diversa soccorsi e rincuorati, ne ammiravano la generosità sollecita e insieme riservata. Ben si comprende dunque come la sua scomparsa terrena sia avvenuta in odore di santità, avvolta da quella fama evangelica di cui aveva goduto mentre era ancora in vita. Per mantenerne viva la memoria, fin da subito le orazioni funebri fecero seguito ricche biografie, prima fra tutte quella di Ottavio Ermanni, uscita già nel 1608. Interpretando il desiderio ampiamente diffuso della cittadinanza, nel 1625 il Consiglio cittadino di Brescia inoltrava una ufficiale istanza, formale istanza al Vescovo affinché istituisse il processo diocesano per la beatificazione di Luzzago e richiedesse a Papa Barberini l'autorizzazione per avviare la procedura canonica. Le prime deposizioni vennero raccolte agevolmente da testimoni bresciani negli anni dal 1625 al 1630, mentre dal 30 al 35 si ampliò il raggio dei testimoni, includendo anche persone viventi al di fuori di Brescia, soprattutto nella cerchia milanese e soprattutto quanti erano ancora viventi. La peste obbligò negli anni 30 a interrompere questa prima fase, riattivata sempre dietro sollecitazione del Consiglio Comunale di Brescia nel 51 e fino al 53. La raccolta e il vaglio delle testimonianze costituirono il nucleo fondamentale del processo diocesano, prima tappa dell'iter di beatificazione che Urbano Ottavo Barberini, proprio in quegli anni, aveva provveduto a regolamentare in tutti i suoi aspetti e fasi per sopperire ad abusi e superficialità. Indispensabile allo svolgimento della causa, appariva la reputazione di santità che dopo aver accompagnato la persona in vita permetteva si guardasse alla sua morte e alla sua memoria con venerazione, la quale, pur rimanendo privata e ufficiosa, dimostrava però il riconoscimento comune e diffuso di virtù straordinarie. Il percorso di Luzzago verso gli altari si rivelò lungo e impervio, tanto che solo nel 1899 si poteva giungere al riconoscimento delle virtù eroiche da parte di Leone XIII e l'attribuzione del titolo di venerabile. Agli atti ufficiali che contribuirono a realizzare l'apposizio super virtutibus e alle biografie occorre far precedere il memoriale che Don Marcantonio Roccio stese, ormai quasi centenario, con l'intento di far risalire già agli anni dell'adolescenza la vocazione di Luzzago alla santità. Si tratta di poche pagine meditate e soppesate, per semplice abbozzo, come dice lui, con qualche pretesa di ricercatezza, sulle quali lo scorrere del tempo ha lasciato il segno e che faticano a liberarsi del tutto dell'immagine acquisita da Alessandro in età adulta. Cito, quel tanto che m'ho ritornato alla memoria. Questa fonte getta luce sia sullo scrivente, Roccio, che sul protagonista, Luzzago, in una sorta di continuo rimbalzo secondo l'adagio latino che riconosce nel successo dell'allievo la gloria del maestro. Il precettore, forte del suo rapporto, instauratosi fin dalla giovinezza, l'età dell'innocenza, ha già riconosciuto i segni della santità di Alessandro, tanto da invocarlo nelle prime righe, quasi indirizzandogli una preghiera di intercessione. Cito, Alessandro, che nei celesti cori, fra le menti lassù, beate e sante, cinto di mille allori, per fatiche cui fatti illustri e tante, vivi felice vita, deporgi a noi qualche cortesia aita, onde possiamo in questo viver cieco, scegliere il modo da goderci teco. Chiusa citazione. L'anziano maestro si scusa di infrangere quella riservatezza che è presupposto alla reciproca fiducia instauratasi con l'allievo, ma la lodevole impresa, come lui la chiama, a cui è chiamato, ne giustifica la violazione, offrire il suo, seppur piccolo contributo, alla sua salita agli altari, e seppur l'affetto per il giovane non era venuto meno, ciò che ne guida il racconto è l'amore per la verità. Occorre allora riandare con la mente agli anni 60 del 500, del XVI secolo, un esercizio che per Roccio fu carico di emozioni e di riflessioni, non privo di sforzo per la sua memoria. Infatti, precettore di un santo. Come abbiamo ricordato, fu il padre Girolamo ad affidare, perché non avendo possibilità finanziare di invitarlo e trattenerlo a casa, inviare presso la casa di Don Marco Antonio Roccio il suo unico erede maschio, affinché uscisse, cito, divoto, letterato, ben creato o morto. Chiusa citazione. Il sacerdote, che vantava una curata preparazione in campo filosofico e letterario, godeva anche della buona fama di pedagogo, tanto da riuscire ad aprire e a mantenere a Gavardo, anche grazie ai proventi derivanti dai beni di famiglia, un piccolo romito, un collegetto maschile, per pochi e scelti rampolli nobili provenienti dalla provincia bresciana. Un luogo prediletto anche da altri signori bresciani, un po' più discostato, soprattutto che non metteva in evidenza le difficoltà economiche delle famiglie nobiliari cittadine. Alessandro doveva avere all'incirca 11 anni, quando, nel 1562, era nato nel 51, giunse a Gavardo, nei cui territori i Luzzago avevano anch'essi dei beni e dove il padre lo fidò alle cure del precettore fino all'inizio del 68, quindi un 6 anni. Nel corso, infatti, di un sessegno, d'un roccio che sopravvisse all'illustre discepolo, ebbe modo di osservare con attenzione le inclinazioni del discepolo, dandone conto in qualche pagina di ricordi. L'elaborato del roccio ha accenni molto generici sulle virtù del pupillo, pur con evidenti accenni di stupore, ammirazione, come per la pietra preziosa, il l'illio di grazioso odore, o l'angelo del paradiso, è ovvio, Savasandir, che ebbe l'onore di conoscere ed educare. Nel momento in cui Laziano Roccio metteva per iscritto le sue riflessioni, il ricordo di quegli anni andava un po' sbiadendo, l'immagine degli studenti che si erano susseguiti era quasi sfocata e si lasciava prendere la mano, forse anche da una certa vanità di retori in pensione, tanto da eccedere in citazioni classiche, preoccupandosi anzitutto della stesura forbita del suo scritto. L'obiettivo era dichiarato, come abbiamo detto, offrire la propria testimonianza a sostegno del processo di beatificazione di Luzzago e quindi soppesare ogni termine in vista della meta sperata. Il precettore agisce assecondando la naturale disposizione degli allievi così da poter trarre il meglio dal percorso educativo e ottenere agevolmente, cito, la riuscita dei figlioli. L'innocente vanità di Roccio affiora anche in una delle poche frasi di Alessandro e da lui riportate, cito, quando gli dettavo qualche lettera mi domandava quando saprò far così anch'io? L'emulazione in questo caso. Il buon precettore non ostenta il suo bagaglio culturale anche se in poche pagine sono sufficienti per citare Socrate, Platone, Demostene, Senofonte, Aristotele e Virgilio e anche Cicerone volendo. Le quere di Enea e lo ricorda questo esempio per il figlio Ascanio sono da imitare. Indubbiamente Roccio riuscì a segnare l'animo di Alessandro anche attraverso il suo esempio di sacerdote onesto e pio di paziente educatore entusiasta cultore delle lettere. Il singolare alunno brillava non solo in termini di rendimento scolastico la sua personalità si distingueva per gli atteggiamenti unici e del tutto insoliti rispetto alla condotta abituale dei suoi coetanei. Alessandro era assiduo nello studio e desideroso di sapere ansioso di accattivarsi il consenso paterno partecipava alle processioni ad altre cerimonie religiose con ammirevole dedizione cito et ivi col suo rosario over corona in mano sempre orando chiusa citazione rispetto alle forzature celebrative dei primi profili non si deve ridurre però il giovane Luzzago a una scelta distaccato dal mondo dall'immagine che ce ne offre anche Roccio i primi biografi infatti vogliono far rientrare la sua adolescenza negli schemi obbligati del fanciullo predestinato pacato riluttante verso gli amici e compagnie precoce penitente e affettato moralista il retrato invece abbozzato da Roccio non si discosta molto da questo cliché ma ne dà un'immagine un po' meno diciamo affettata Roccio ci suggerisce un diverso punto d'osservazione ammettendo che sebbene Alessandro avesse stretto rare amicizie cito con tutti mostrasse ogni atto di cortesia e i figliuoli della scuola sempre gli erano intorno ai quali donava mo questa mo quella cosa il che dicendogli io talvolta che così non facesse mi rispondeva con grazioso riso dicendo di grazia mi lasci un poco questa licenza che mi consolo di far correre questi figliuoli termino citazione e se qualcuno si burlava di lui cito gentilmente egli li riprendeva di modo che con quella gentilmaniera se li legava indissolubilmente Alessandro non disprezzava gli svaghi specie legite organizzate nella località gardesane e amava la compagnia degli amici attirava per il senso di amabilità e di fiducia che riusciva a trasmettere poiché come osservava Roccio cito non si lasciò mai trasportare da sdegno alcuno a dir parola o a far atto dispiacevole ad alcuno non mormorò mai da alcuno ne fu mai pronto a riferire cose udite chiusa citazione altra qualità che spiccò sin da questi primi anni gavardesi fu la prudenza la riflessività l'occulatezza delle scelte cito ruminava prima le cose di poi o le riferiva a me ovvero le risolveva gentilmente e con grandissima pazienza chiusa citazione pur avendo accantonato il mestiere delle armi si impegnò nel farsi valentuomo come esigeve il suo rango anzitutto facendo tesoro delle letture cito il che fece onesto gentiluomo servendosi delle cose che virtuose si leggevano chiusa citazione gli anni di gavardo giovarono allo sviluppo della personalità del giovane alessandro contribuendo a formare una solida maturità di giudizio e uno stile letterario personale il programma educativo che il padre girolamo voleva impegnativo e inflessibile a gavardo era distante da lontana da brescia si declinava secondo orizzonti più ampi con un tempo forse più morbido dilatato e non riproduceva lo triste grigiore della casa paterna alessandro era comunque di esempio fra i compagni stimolando soprattutto l'emulazione cito insegnava ai figliuoli che gli andavano in camera come dovevano fare a spendere bene il giorno chiusa citazione nella sua permanenza con Dorroccio rimane un discreto carteggio anche con lettere compilate in latino a riprova dei successi conseguiti nell'insegnamento precettorale e a lettere anche redatte in volgare un po' più stentato ma ovviamente dall'effetto più spontaneo si riescono così a inseguire i pensieri dell'adolescente che reagisce nei suoi primi contatti con la vita in queste ultime si distinguono due motivi costanti della produzione epistolare il resoconto dettagliatissimo delle spese affrontate e la richiesta sempre penosa di altre somme di denaro per necessità personali o per l'acquisto di presenti a favore degli amici compagni o dei confidenti nel piccolo cerchio curato da Aroccio la giornata doveva scorrere serena ritmata dalle esercitazioni letterarie dalle conversazioni dai giochi dalle passeggiate sebbene il primo posto fosse occupato dalle pratiche devote una lunga nota di spese inviata al padre con lettera compagnatoria tra il 1566 e il 1567 apre uno spiraglio sulla vita materiale del giovane e sul suo piccolo mondo di provincia il quale impegnava il denaro per l'acquisto di abiti corredo oggetti necessari e voluttuari regali e capricci per esempio per la sua tenuta personale Alessandro spende per una mistola rosina per mettere agli schifoni degli stivali oppure cito far comodare la pelizza nelle manighe e un giupone oppure un paio di guanti da scrivere bottoni bianchi per il giupone bianco una centa per capello scarpe tolte a salò e pianelle ciabatte tolte a desenzano non si va molto lontano i mercati sono ancora quelli insomma anche ancora di oggi la dettagliata distinta di spese è rivelatrice dello stile che Luzzago manifesterà in seguito ricoprendo incarichi pubblici sia in ambito civile che in quello ecclesiale solo un terzo di quanto riceveva dal padre veniva speso per esigenze personali molto serviva per i regali malgaritine per Hortensia la sorellina minore guanti da vecchia per una di quelle putte che mi serviva cinque scuffie con la cui seta per dare a quelle donne sempre di servizio la sua condizione nobiliare lui individuava come un candidato eccellente nel far da padrino anche ad alcuni neonati locali un ruolo che svolse volentieri per il quale dichiara anche di aver speso cito per avermi fatto il messer tenera battesimo e io avergli diato dieci soldi mentre Roccio glissa nel mostrare il giovane intento nel gioco le annotazioni di spesa permettono sia di conoscere il discepolo a tutto tondo sia i metodi pedagogici perseguiti dallo stesso precettore necessita ad esempio di denaro cito per aver zuggato alla balla in alcune volte e preso benché più ancora e per compagnia e per quello che mi imprestò alcuni panni da pecoraro per la comedia informando così sulla sua partecipazione a una recita di gruppo ammalatosi a Manerbio nel settembre del 1565 Alessandro indirizzò una lettera all'amico Orazio Giannetti chiedendo notizia sull'andamento del gruppo di Gavardo su cui su quanto si insegnava e cito e se vien più scolari e come si fa in conto dello leggere ed ogni altra cosa fine citazione inoltre lo pregava di fargli avere cito un poco d'uva vernazzola ovvero di qualche altra sorte che io la pagherò come sarò venuto la formazione culturale soprattutto letteraria assorbì la maggioranza del tempo e delle risorse intellettuali di Alessandro la lettura e l'imitazione degli autori classici costituirono la cifra dell'insegnamento precettorio di Roccio pur senza aderire alle mode umanistiche e all'imperversante manierismo i biografi successivi non mancarono di cogliere le disposizioni religiose del giovane fin dalla sua adolescenza sebbene dalle sue lettere non si colga molto in proposito né vi appaiono riferimenti a studi sacri né a letture religiose Roccio riferì che cito tutti i suoi affetti conferiva con Dio appongiandosi al suo altarino chiusa citazione e ormai anziano Roccio ricordò ancora una frase del suo discepolo cito se io sapessi da aver mai consentito a peccato mortale passerei digiuno un anno intero fine citazione bastava forse questo per fare di Alessandro Luzzago un santo per il suo precettore Marco Antonio Roccio sì grazie grazie grazie